Dimenticare lo scivolone con l'Empoli a ripartire perché non c'è più tempo per recuperare eventualmente un altro passo falso. Quattro punti per chiudere in bellezza la regular season ed assaporare il gusto delle sfide playoff, sognando in grande. L'obiettivo della Salernitana è questo, per riuscirci occorrerà resettare e ripartire non facendosi condizionare dalle scorie di un KO, quello di venerdì sera che inutile negarlo ha fatto tanto male. Ma la Salernitana ha perso più per gli errori dei singoli che per quelli di squadra. Ecco allora che Ventura in questi tre giorni ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi calciatori consapevole che la reazione della squadra nella notte di Trieste dovrà essere soprattutto di testa, d'orgoglio, per dare un segnale alle avversarie e tenersi stretto un posto tra le grandi della B. Quello con il Pordenone è uno scontro diretto per l'alta classifica. Nella notte in cui lo Spezia, prossimo avversario dei Granata, potrebbe blindare il terzo posto, al Pordenone potrebbe anche bastare un pari per chiudere al quarto posto la propria positiva stagione. Fare calcoli però diventa difficile e arduo perché ci sono tante squadre in corsa per un obiettivo e le sorprese sono in agguato in questi ultimi 180 minuti di campionato. E così la penultima giornata preannuncia tante emozioni e sorprese. Insomma, un turno da vivere tutto d'un fiato. Telecolore lo racconterà a partire dalle 20.30 insieme al Radio Bussola 24 che trasmetterà in esclusiva la radiocronaca della partita. Poi insieme il post-gara con i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti.